Per non essere qui, però quando arrivare all'ultima partita abbiamo tempo sufficiente per parlare. Io con i giocatori, con la struttura direttiva, e decidere quello che è meglio per me, quello che è meglio per il club e quello che è meglio per i giocatori. Però i giocatori sono più importanti.